L'Aquila perde lo scontro play-off nel posticipo con la Reggiana e dice addio quasi certamente agli spareggi promozione. Doveva essere la partita della svolta, quella del dentro o fuori. In realtà il match serale del Fattori ha solo aggravato ulteriormente la crisi di identità e di risultati in cui verte la truppa di Zavettieri da inizio febbraio. Il tecnico calabrese in queste ore è tornato sulla graticola e potrebbe essere esonerato per far posto allo scalpitante Nini Corda. Davanti a circa mille spettatori l'Aquila scende in campo con il solito 3-4-3. In avanti conferma per il trio Pacilli, Perna, San Domenico. In mediana invece lo squalificato Scrui è sostituito dal giovanissimo Carcalis, arbitra Monreale di Roma 1. Nei primi tre minuti di gioco la partita vive già di due sussulti, uno per parte. Al secondo Feola si allunga il pallone nel controllo San Domenico per un soffio non firma il Tapin. Un giro di lancette più tardi, Ruopolo a tu per tu con Zandrini, paratona del portiere Rosso Blu in corner. A cavallo del decimo minuto l'episodio che segna indelebilmente la contesa. Errore di disimpegno di Pedrelli che non si capisce con Pomante, Ruopolo ringrazia, entra in area di rigore di piatto destro, fa secco Zandrini. L'Aquila a zero, Reggiana a uno. I Rosso Blu accennano una reazione, Pacilli punizione sulla testa di Perna che gira di un soffio a lato. Ancora Pacilli sugli scudi, controllo, fantascientifico a deludere l'avversario, sinistro, volante, blocca Feola. Su un'azione di pressing a tutto campo, alla mezz'ora, ecco la chance, più ghiotta per il pareggio. San Domenico soffia, palla a spanò, Perna e Pacilli nel mezzo ma inspiegabilmente San Domenico tenta un improbabile dribbling perdendo il tempo della giocata. Ripresa, poco dopo il quarto d'ora si complica ulteriormente la partita dei ragazzi di Zavettieri, doppio giallo per Carcalis e l'Aquila in dieci. Entrano De Francesco, Gotti e Corapi che prova a dare una scossa al minuto 66, punizione insidiosa deviata in corner. La Reggiana scampato il pericolo va vicina al raddoppio, Andreoni in contropiede per siega, ancora Zandrini a chiudere la porta in faccia al numero 11 Emiliano. Altra occasione, a dieci dalla fine, Giannone imbeccato in posizione regolare, Zandrini saltato poi però, errore nel cross per la corrente parola. L'ultimo sussulto è dell'Aquila con un altro tiro insidioso di Corapi che però fa solo la barba al pane. Finisce così, crisi nera per l'Aquila, forse a questo punto sarebbe meglio pensare a raggiungere la salvezza. La piega che sta prendendo il campionato lascia ormai più di una preoccupazione.